Steph smettila dai, basta Steph, sono pronto Io ho sempre sognato di partecipare nella realtà a questo gioco Lo voglio troppo troppo fare Oggi mi accontenterò di farlo su Roblox Ma devo assolutamente vincere Ok Perché è una vera competizione e io voglio vincere E sono il primo, parto? Vai Ok, uno, due, tre, quattro, cinque E stai proprio avanti, stai proprio avanti Ho un tempo Devo metterci il meno tempo possibile Aiuto, ok Oh mamma mia, nella realtà non lo farai mai Io sì, sarebbe troppo divertente Non mi piacerebbe cadere in acqua Esattamente così Però lo sai che quando cadi in acqua devi nuotare velocissimo Trovare delle scale e risalire Ah, qui puoi anche risalire Ok, non è come nelle trasmissioni che perdi e basta Ok, 37 secondi Ce l'ho fatta fare, sono il numero uno E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, che si chiama Roblox E oggi siamo qui in un nuovo tre mappe in uno o due o uno Ancora non lo sappiamo E siamo in questa mappa molto particolare Che ricorda la trasmissione TV Takishis Castle Esattamente Molti di voi probabilmente la conosceranno Anche noi la guardavamo tantissimo quando la davano in TV E quindi dovremmo superare tutti questi ostacoli Senza cadere in acqua Come appena ha fatto Steph Non è vero, non è vero Sono andato benissimo E allora, vedete già che figata è questa mappa Praticamente vengono messe due persone alla volta a giocare Ci sono le qualificazioni Il secondo round Il terzo round Dopodiché i vincitori Quindi cambierà sempre la mappa Tutto il tempo Ok, quindi sarebbero prove tutte diverse E dovremmo cercare di vincere Io, come puoi notare, ho 3500 tickets Tu ne è zero E vabbè, io ho appena iniziato Non mi hanno neanche fatto gareggiare Ho nerdato un po' Ok, devo essere sincero Posso andare in pugni? No No, no, no Mi dispiace Ti volevo dare in pugni Tra quanto tocca a te, Ferre Tra quanto tocca a te Vieni che ti faccio un allenamento rapido Vieni, vieni, vieni Perché qua c'è la zona allenamento Ah, perché non mi hai detto prima? L'avrei fatta Accidenti Allora, secondo me l'allenamento più utile che puoi fare È questo qui a sinistra Con le palle rosse Perché dovrai appunto saltare tutto il tempo E ti devi abituare Ok Vieni, vai Sei pronta? Vai, salta, Ferre Uno Due Ok Questo è facile Lì è per tutte le cose che ti arrivano in faccia Cinque Bravissima E sono caduto anche così Questo è già più difficile, infatti Uno Due Ok Basta Sappi che ti ho voluto bene Morirò annegata Addio, Steph È sicuro È una gara sicura No, non mi piace Puoi stare tranquilla, Ferre No, perché hai scelto questa mappa? Dai che ce la fai Dai che riesci a qualificarti Ad andare avanti insieme al tuo Steph No Ce la farei? No Guarda come sono conciata Che bellina Che brutto Che brutto Guardate che carina Che fai Ah, questi così affondano Ok Bravissima Dai, questo è di precisione Lo sai fare Ne abbiamo fatto tanti Uno Due Tre Vai, vai, vai Corri, corri, corri Verso di lì, verso di lì Sali Che le scalette Ok, bravissima Continua Ma non è giusto Superi i livelli Continua, continua, continua Adesso devi soltanto zeccare il tempismo Perfetto Ok Ok Dai che sei ancora viva Ce la fa No Ok, devi andare dritta e nuotare Dritta, nuota, salta Nuota e salta Che tristezza sto livello L'importante è il tempo, Fere Ok Corri, Fere Corri, Fere Corri Mi riferà qualcosa in faccia Prendilo Ok, che devo fare adesso? 47 secondi, è finito Ah, è finito, era solo questo? Esatto, il tuo tempo è di 47 secondi Il mio è di 37 Si qualificano tipo in 5 o in 6 E sono cadute tutte le volte Adesso vediamo Comunque è difficile Cioè perché quei cosi davvero ti fanno male E poi quando c'è il parkour Fine, fine, fine Guarda che tosto Perché lì Ma non è semplice questa mappa Quando cambi la visuale Cercando di vedere Un po' si flippa Non è semplicissima Guarda Hai visto che è scomparso tutto? Sei qualificata Sei sesta Ma le primi 5 E io sono secondo No, 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 no Questi sono quelli che si sono qualificati Ah, ok Ok Quindi sei comunque sopravvissuta Che tristezza Dai, su Allora, qua Sei persone Ok, rimarranno E che cos'è sta cosa? Dobbiamo assaltare? No, dai Ti prego Ah, ce l'ho presente Io l'odio Non è capitato di giocare una cosa simile Ce la puoi fare, Ferre Secondo me ci puoi riuscire Eh, ogni volta che l'abbiamo giocato Ho perso malissimo È vero È vero I giochi mi mettono un'ansia Uno si è già suicidato, Ferre Ok, meno Anche un altro Ma che problemi state avendo? Tu pensa a vincere Ok Dai che ce la portiamo a casa Ah Aiuto Ok Ok Vai, Ferre Ah, aiuto Almeno uno è andato Ok No, ho troppa paura Io non ce la faccio in questi giochi Ce la devi fare No, non ce la posso fare Dai che devi fino all'insieme Aiuto Ah Perfetto Deve cadere almeno qualcun altro Te lo dico, eh Sì, ma accelera secondo te Secondo me sì Secondo me sì Perché per ora mi sembra sempre uguale No, è sempre così Solitamente accelera Secondo me un minimo sta accelerando Sì, sta accelerando Stanno resistendo tutti, eh Stanno resistendo Aumenta l'altezza Oddio Quindi devi saltare molto meglio Perché altrimenti sbatti Ok, aiuto Dalla mia visuale ti sta prendendo Altezza 4 Altezza 4 Ma che ti prende? È un po' strano, è un po' strana 3, 2, 1 Ui Ok Ce l'ho fatta Due buttati giù Ah Io resisto Bravissima Resisto, resisto Siamo arrivati in 3 Altezza 6 Ho il 5 il massimo No, no Ok, c'è anche il 6 Ok Credo che fra poco Devi farla all'ultimo Mi ha preso Mi ha preso Sono caduto Dannazione Io ci sono Ce l'hai fatta? Io ci sono ancora Grande pera C'è anche un altro tipo Quindi se cade lui posso arrivare prima È uno contro uno Puoi vincere Non è questa la vittoria del torneo Lo so, lo so, l'ho capito Però Sarebbe bello Te No, niente Eh no, questo era alto Questo era alto Vabbè, vabbè Mi ha contento del secondo posto Secondo posto è buonissimo Meglio di nulla Brava Fere, guarda, guarda, guarda Siamo comunque noi 5 Ad essere passati Allo stage 3 Dallo stage 3 Ne rimangono soltanto 3 Che si giocano la finale Wow Quindi devi farcela Dai che ce ne andiamo in finale insieme Vedi, questa qua è la mappa No, non penso che arrivi Io te lo dico No Ce la puoi fare Dai, sei andata meglio di me adesso Devi avere fiducia Non contare su di me Ma siamo tutti insieme Devi schivare la palla Che si muove avanti e indietro Oddio, no Ok Nel mentre c'è il tappetino Che ti muove Ok Quindi sta soltanto nel capire Quando devi spostarti Io sono stato anche colpito E adesso ci sono pure Degli oggetti in giro Eh vabbè Devi schivare tutto E vabbè, ma che è sta cosa Fere, ce la puoi fare Attenta No Salta, salta, salta Ce l'ho fatta Scappa via, scappa via, scappa via Ce la faccio, ce la faccio Ok, brava Fere Sopravvivi, sopravvivi, sopravvivi Dai che ce la facciamo Ci provo Qualcuno che cade, per favore Questo qua sta cadendo sempre Questo vicino a me Ok, è quasi caduto No Stai attenta Fere Ok, ok Corri, corri, corri No, vieni verso di me Sì, sì, sì Noi sono felice di non farne più Che bello È il momento più bello No No, no, sono felice Posso stare tranquilla a vedere te Lasciami in place Parina tutto ogni volta a questa ragazza Sì, a me non piacciono le cose competitive Lo stai benissimo Allora, dove sei tu? Sono qua Fere, sono qua E non ti vedo Perché ti posso vedere? Perché? Ah, non è Pensavo No, no, no Sta diventando notte E c'è la finale Perché la notte è al buio, capito? Per fare scena La notte è al buio La finale è al buio Eh sì, grazie Per fare un po' più Guardi, tutto il mio cervello sta già pensando alla finale Quindi non riesco più a parlare È troppo concentrato e non riesce a parlare Mi sembra giusto Ok, è mezzanotte Il player più veloce a completare tutto questo Se la porta a casa Vince il torneo, ok Allora, bisogna salire su questa barca C'è uno scivolo E devi saltare al momento giusto Per dover notare il meno possibile Ok, ok, ottimo Ok, dopodiché sali qui sopra È abbastanza semplice Ma perché salta tutto il tempo sto tizio? Ma perché è così lento? Che problemi ha? Secondo me ha problemi di lag seri Te lo dico Può essere, può essere Perché è tutto sorto Vabbè, vabbè Può devi riuscire a beccare il momento giusto per entrare Oh mamma mia Tipo Io l'ho visto sbattere Ma ce l'ha dovuto aver fatto Anch'io l'ho visto sbattere Però sì E a questo punto devi risalirlo tutto Ma ha sbagliato la direzione da cui farlo E uscire via Azzercando di nuovo il tempismo E infatti è caduto E infatti è caduto Poverino, poverino Allora direi che la finale me la gioco con l'altro concorrente Perché peggio di così non credo che io farò E no, poverino, sta laggando tantissimo Quindi secondo me non riesci proprio a capire bene Vai Steph Allora Ma dai, non puoi cadere qua Posso andare lì? Dimmi di sì Dimmi che non sto perdendo tempo Ok Non lo so Dovrebbe valere, dovrebbe valere No, c'è una barriera No Ma perché dovevi tornare indietro Ho perso la finale Dov'è il punto? Eh, aspetta, aspetta, aspetta È qua Più o meno ci sei, ci sei, ci sei Lanciati Ok Lanciati, ok, ok 67 secondi Allora, meglio dell'altro posso fare Perché l'altro ha concluso tipo in 120 Sì, però Allora, poi puoi anche valutare il fatto Che magari il terzo poi va malissimo Eh, lo so, ci devo sperare Infatti devo pensare A fare il meglio possibile ancora Vai, vai, vai 80 secondi 80 secondi Dai, se riesco a chiudere a 100 non è male Esatto Però l'ultimo è il più difficile secondo me Qual è questo? Sì Ok Allora Mamma mia Perlomeno Io le odio ste cose Ok Dai Dai Ok 98 98 è buono È buono È recuperato bene È recuperato bene Ok, c'è una signorina È l'ultima Ha già due vittorie in carriera Io ne avevo zero Quindi teoricamente Teoricamente è brava È proprio esperta dei giochi Aspetta Ok, ok, ok Partita in ritardo 5 secondi in ritardo Vediamo adesso 5 secondi E va anche abbastanza in acqua Bene Si, si, si Si sta perdendo tanto tempo Bene, 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 bene Ok Già 15 secondi Guarda quanti tempi Ah Poverina Ci avrà la lag della vita Allora Devo sperare che cada adesso Perché se non cade Questo riesce a farlo Comunque secondo me vince Ah, ok Ma devo stare a teletrasportata Poverina Si è preso un ceffone fortissimo Fortunissimo Allora io vorrei ti fare anche per lei Poveretta Però voglio vincere Ma ferma Ok, no, no Sta lagando, sta lagando Sta cercando di risalire le scale Cioè, ma vinci contro quelli che hanno la lag Fere, sono un campione Ok Io te lo dico Ma vinci contro quelli che hanno Sono un grandissimo atleta Fere Tanta lag Tanta lag Antipatica Sei soltanto gelosa Che tu sei caduta come la pera prima No, a me non interessava neanche competere Non è vero Ti piaceva un sacco No, per niente La tua mappa preferita Assolutamente no Fere, ma sto rischiando ancora però Eh, sì 55 Io ho fatto 98 No Allora dovrebbe cadere qua Te lo dico Perché tu hai perso molto più tempo In quella In quella piattaforma Quindi se le Eh, vabbè Lo stavo facendo perfetto Vabbè, ma è perfetta Oh mio Dio, è bravissima Oh mio Dio, è bravissima Ho perso Ho perso Sì Ho perso Ho venti secondi Deve cadere Deve cadere adesso Ti prego sbaglia Ti prego sbaglia qualcosa Sbaglia il tempismo Dai Ok Cadi No, ce la fa Dai Ce la fa Cadi Adesso ho dell'emozione Oh Ma dai, l'hai portato sfortuna Aspetta che forse riesce a risalire in tempo No, no, no Non ci credo Vince lei Vince lei Vince lei Per un secondo Barando pure Perché dai Ti doveva far risalire dalla parte però da rifare Non dalla parte in cui finisce Basta Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Spero che si dice così Se tutto Aspetta 10 like E se è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!